Architetto, spieghiamo come cambierà il porto di Sciacca grazie a questi lavori. Intanto sarà reso più operativo perché effettueremo un dragaggio su tutto il porto, su buona parte del porto, dove riteniamo di poter livellare il fondale e portarlo a una quota accettabile. Poi verrà costruita in prolungamento della banchina San Pietro un'altra banchina divisa in due quote differenti, in cui nella prima ci sarà anche un motoscalo dove gli operatori della canteristica attraverso i travel lift potranno prelevare direttamente dal mare la barca e portarla direttamente in cantiere. E poi sappiamo di un intervento che collegherà praticamente le due zone del porto e che quindi migliorerà anche la viabilità. Sì, abbiamo espropriato due vecchie maniere ruderi più che altro e lì verrà raddoppiata la strada che collega il centro con il porto mettendo in prolungamento quella che c'è davanti alla Capitanaria di Porto fino all'ingresso dall'altro lato alla fine della San Pietro. Questo ci permetterà di avere un accesso più agevole verso e da il centro di Sciacca, quindi l'area portuale diventerà una parte del comune di Sciacca. A seguito del dragaggio ci sarà la possibilità di fare arrivare anche imbarcazioni di una certa stazza? Noi lo vediamo questo soprattutto sul piano turistico naturalmente. Naturalmente questo dipende da due fattori. È chiaro che la regione siciliana può costruire infrastrutture. Gli operatori turistici devono invece investire per poter dare la possibilità all'imbarcazione di grossa stazza come dice lei ma qui arriveremo sulle media stazza, non grande stazze. In ogni caso sulle mini crociere o sulle crociere quelle ancora fino a un massimo 120 posti. Questo chiaramente dipende se riusciranno a organizzarsi in cooperative come spero io perché noi facciamo infrastrutture però non vogliamo buttare soldi. e quindi la conclusione di questi lavori non saranno al collaudo dei lavori ma li considereremo conclusi nei momenti in cui vedremo che saranno utilizzati effettivamente per quello per cui li abbiamo progettati e realizzati. Comandante, comunque una bella giornata per la zona portuale di Sciacca e per l'intera città. Assolutamente. Nel porto di Sciacca sicuramente gioverà parecchio questa realizzazione di questa importante infrastruttura. Considero tra l'altro che dal punto di vista operativo l'intera portualità ne potrà giovare sia per la realizzazione della banchina sia anche per un potenziamento del pescaggio del porto. Ovviamente tutto quello che ne deriva in termini come poc'anzi accennati dall'architetto di operatività ne conseguirà poi una regolamentazione da parte dell'autorità marittima. Con tutto l'ausilio e l'augurio che possano anche trasformarsi in terminal croceristici o qualsiasi cosa che possa in realtà potenziare il contributo economico all'interno sia del porto che dell'intero contesto cittadino.